Gli abitanti di questo villaggio delle Frisie, i nostri vecchi lo sanno, cavalli di Frisia si chiamavano i reticolati, si allenano a saltare il fosso. Lo devono fare per la caccia durante l'anno e lo fanno in gara per stabilire primati e distribuire premi. C'è chi se la cava e c'è chi arriva a malapena oltre il pantano. Ci si provano tutti, anche le donne e gli anzianotti che non saltano più la cavallina. Qualcuno è naturale, finisce a mollo per il divertimento del paese, dopo essere rimasto appeso alla pertica come un salame all'albero della cuccagna. Fronde di alloro al vincitore, inutile spiegare che a Roma ci sono le Olimpiadi, preferiscono la pertica.